Torna una notte al museo, sabato 26 ottobre, porte aperte fino a mezzanotte dei principali luoghi di eccellenza della cultura italiana. Tra loro anche il Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo a Roma, dove è possibile ammirare una delle più importanti collezioni di arte classica al mondo. Queste iniziative di apertura notturna dei musei dove non soltanto è possibile ammirare il patrimonio culturale conservato nei luoghi dell'eccellenza della cultura italiana, ma sarà possibile anche godere di iniziative, di eventi, spettacoli, di lirica, teatrali, recitazione e conferenze varie che appunto renderanno vivi e dinamici i nostri musei. L'espressione spossata del pugile che sembra attendere quasi la prossima sfida, l'ermafrodito dormiente che sinuosamente scopre le sue nudità. Tutto questo sarà visitabile sabato 26 ottobre dalle 20 alle 24. Queste iniziative del sabato notte al museo, l'ultimo sabato del mese di ogni mese, per ora è fino a dicembre, ma il forte sostegno che ci sta dando il ministro Brahi in queste iniziative ci fa ben sperare che anche nel 2014 riusciremo ad offrire ai nostri visitatori i musei in orario notturno. Il Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo si trova nel centro di Roma a due passi dalla stazione Termini.